Sì, infatti questa qua secondo me ha una doppia valenza come impresa, la prima ovviamente per appunto parlare dei diritti umani, secondo un'impresa sportiva vera e propria perché comunque pedalare da Serravale e Scrivia a Strasburgo non è una sciocchezza, lo invidio, lo invidio per la voglia e per la forza di volontà, abbiamo anche parlato di maratone e per il tempo che ha dato lui per farlo, comunque quello che, intanto ringrazio Marco per avermelo presentato, quello che chiedo veramente a tutti quelli che sul suo cammino lo incontreranno è veramente un applauso, una stretta di mano, un aiuto se avrà bisogno ma credo che Savona come al solito quando è il caso dimostra di essere solidale, in tutti i casi dimostra di essere solidale, questo è un caso e chiedo veramente a tutti quelli che lo vedranno di accompagnarlo a Scrivia a Strasburgo con un aiuto, anche un applauso penso che a Scrivia Vittorio faccia veramente piacere, grazie. Grazie 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 Grazie